Un appello ad essere studenti responsabili ed autonomi. E' quello che arriva dalla dirigente scolastica del liceo classico Gaetano De Botti, seditore del greco Letizia Spagnolo. Dopo tanti rinvii, dopo tanta attesa, ricomincia la scuola. Quali sono state le sue sensazioni e le sue emozioni? Questo rientro lo aspettavamo da sette mesi. Sette mesi quasi una gestazione della ripartenza della scuola. Le sensazioni sono state tra commozione, entusiasmo, emozioni profonde. Vedere questi alunni il primo giorno di scuola, che si apprestavano a varcare la soglia del nostro istituto, è stato per me, ha dato il senso della mia professione. Riportarli, rivederli a scuola, che è il loro contesto naturale. Ho notato che i ragazzi hanno contenuto il loro entusiasmo, si sono apprestati come entrare in un luogo sacro, che per noi la cultura è un luogo sacro, la loro compostezza, il loro rispetto delle regole. Commozione ed entusiasmo, i sentimenti che hanno accompagnato l'avvio dell'anno scolastico dopo sette lunghi mesi. La stessa emozione negli occhi della preside, che ai microfoni di TV City ha spiegato, la nuova organizzazione dell'istituto per garantire la sicurezza degli alunni, con ingressi scaglionati e l'avvio della didattica digitale integrata, secondo le linee guida indicate dal MIUR. Quali misure di prevenzione ha adottato il vostro istituto? Il nostro istituto ha adottato le misure di prevenzione che sono previste dal Comitato Tecnico Scientifico. Quello di evitare gli assampamenti, quindi un ingresso scaglionato. Il biennio entrerà alle 7.45, il triennio alle 9.45, per evitare poi che l'uscita dovesse procurare qualche assembramento. Essendo noi scuola di secondo grado, abbiamo potuto realizzare la didattica digitale integrata. Cioè significa che una parte di alunni sarà presente in classe, l'altra parte di alunni, per motivi di sicurezza che non possono stare in classe, seguiranno a distanza. Una metodologia innovativa di insegnamento e apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. Che anno scolastico sarà, secondo lei? Un anno scolastico è sicuramente diverso da quello che abbiamo sempre avuto, penso che sia poi anche unico nella storia della scuola italiana. Ma un anno scolastico con delle regole in più, che poi sono semplici da rispettare, che è quello del distanziamento, l'igienizzazione delle mani, la mascherina, è evitare gli assembramenti. Queste sono le regole che si aggiungono alle regole normali della scuola. Infine un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare quest'anno scolastico. Io ho girato per le classi perché non ho potuto quest'anno, come gli altri anni, accoglierle tutte insieme. L'augurio che ho fatto ai miei alunni è quello di dimostrare a se stessi, non agli altri, ma a se stessi di avere un forte senso di responsabilità, di autonomia, perché anche quando i ragazzi non sono a scuola sono collegati alle otto meno un quarto comunque a distanza. Quindi questo significa anche dare dimostrazione anche di senso di responsabilità, di autonomia. Sarà sicuramente un anno scolastico diverso, concluso la preside spagnolo, ma non per questo meno importante. Ognuno deve fare la propria parte. L'augurio che dico ai ragazzi è quello di vivere quest'anno come un anno speciale, ma anche un anno transitorio, e quindi mettere in atto tutte le indicazioni che chiaramente la famiglia, la scuola diamo. Confido comunque un grande senso di responsabilità di tutti, ovviamente. Ho detto che ognuno di noi farà la sua parte e se è così insieme ce la possiamo fare.